Anche a Taranto le dimissioni del segretario nazionale del PD Nicola Zingaretti hanno suscitato sorprese sconcerto. Abbiamo fatto il punto della situazione con il commissario del partito di Terra Ionica, Giovanni Chianese. Il cammino congressuale del PD Tarantino precisa sarà influenzato solo dai tempi della pandemia. L'eventuale cambio al vertice dei DEM non dovrebbe incidere. Le dimissioni del nostro segretario nazionale avranno delle ripercussioni, ma noi speriamo che questo sia un punto di partenza per il rilancio del partito e non una condizione che possa bloccarlo o impantanarlo, perché altrimenti davvero ci troveremo in una situazione kafkiana dove tutto quello che si è fatto in questi anni, soprattutto in questi mesi, rischierebbe di andar perso. Proprio la città di Taranto è sempre stata all'interno, in primo piano, nei nostri programmi e speriamo da qui si possa ripartire per rilanciare anche l'azione del partito nazionale. E su Taranto cosa può accadere per il cammino congressuale? Inevitabilmente dobbiamo valutare con la dinamica romana nazionale che cosa questo può comportare, però fondamentalmente l'unico rischio che noi incontriamo è quello della pandemia, della diffusione del virus, altrimenti daremo via quanto prima. alle consultazioni e alla campagna congressuale piena.